iiii eh devi farlo anche te eh allora siamo siamo al menù principale finalmente vediamo questo ottimo giochino andiamo subito sul buongiorno sul giocatore singolo eeeh crea un nuovo salvataggio ovviamente eh perchè sennò ok l'autosalvataggio ci siamo ok stiamo salvando esodo in america eccoci qua filmato iniziale ok eccoci qua miro eccoci qua eccoci qua eccoci qua ea Eccolo qua, il nostro protagonista Rockstar Games, vai così Eccoci qua Ale Eccolo qua Eccolo qua Non solo do people now have motorcars, Father But I heard that pretty soon We will be able to fly No, only angels can fly, Jenny No, no, apparently I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family A family without class And the same thing Yes, Jenny, it is confusing, but you only have to ask me Well, here we are, Mrs. Bush, armadillo Eccolo che scende Oh, finally, we have the first contact of the game play Ecco, we have the first time of the game play Guardatelo, guardatelo come cammina Vediamolo, vediamolo sto protagonista Ok, we have the first time of the game play Così, we have the first time of the game play Così, we have the first time of the game play Così, we have the first time of the game play Così, come and look at the time of the game play Un po' di front Vediamolo sto Guardate che estensione del panorama Immensa mamma no qua entriamo alla stazione ecco una classica cittadina western ha l'indicatore eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua Ecco, se lo seguiamo, vediamo un pochino questi edifici, qua, eccoci qua, ah, finalmente il primo contatto con il nostro primo cavallino, ecco il cavallino, andiamo, ok, ecco, aspetta non si ferma, basta di salta, qua, ecco il cavallino, andiamo, yeah, come è l'impatto grafico? Quello figo, ah, ecco, vediamo la sinistra del radar, la resistenza del cavallo, un indicatore è importantissimo, andiamo, andate come scatta, oh, muovi le chiappe!